Un'area di relativa bassa pressione insiste sul bacino del Mediterraneo centrale, mantenendo attive condizioni di instabilità, specialmente sui rilievi, e nel pomeriggio. Nelle prossime ore il transito di una perturbazione sull'Italia settentrionale potrà interessare, seppur marginalmente anche la nostra regione. In Toscana giovedì 13 giugno nuvoloso, con possibilità di rovescio temporali sull'arcipelago e sulle zone nord-occidentali a fine mattina. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, con rovescio temporale su tutte le zone centro-meridionali, meno probabili fenomeni sulle zone settentrionali. Venti occidentali fino a moderati forti sulla costa centrale, venti molto mossi sul settore settentrionale, tra poco mossi e mossi su quello meridionale, temperature in calo inferiori alle medie stagionali. Sul territorio provinciale da poco nuvoloso a nuvoloso, sereno in serata, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 13, massima 22 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 11, massima 20, a Via Regge sul litorale, minima 15, massima 22 gradi, venerdì sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse. Grazie. Grazie a tutti.